Ciao a tutti da Channel Games TV Football, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, grazie. Una manata alla bandierina, un calcio a una bottiglietta e un'occhiataccia a Massimiliano Allegri. Dusan Vlaovic non ha preso bene la sostituzione al 62esimo minuto di Juventus Milan, il centravanti il serbo ha lasciato il campo, sostituito da Arkadius Milik, senza nascondere la rabbia per il cambio. Mentre in campo il tecnico bianconero giocava la carta del tridente, a bordo campo Vlaovic ha percorso il tragitto che lo separava dalla zona d'attacco, dove ha lasciato il campo, scuro in volto, per poi scaricare il suo disappunto nei pressi della panchina. Dopo il labiale di Federico Chiesa, e sono sempre io il primo cambio, dopo la sostituzione nel derby della Mone, un'altra grana per l'allenatore della Juventus.